La settima giornata del campionato di Serie C Gold prevede domenica alle 18 la sfida tra Virtus, Siena e Amen, Scuola Baschetta Rezzo. Arbitri dell'incontro saranno i signori Lupichini di Viareggio e Magazzini di Bagno a Ripoli. Dopo l'amaro epilogo contro Chiusi, l'Amen di Coach Milli sarà impegnata al cospetto di un'altra squadra di alta classifica. La Virtus infatti si trova in testa con 10 punti assieme a Castelfiorentino e Chiusi, nonostante la sconfitta casalinga di sette giorni fa contro la PL Livorno. Retrocessa dalla Serie B, la squadra senese è guidata in panchina da Coach Tozzi, può contare su ben 5 giocatori, attualmente oltre alla doppia cifra di realizzazione a partita. Si tratta di Olleia, Imbro, Bartoletti, Biacchi e Casoni. Inoltre sempre Casoni è il terzo nella classifica dei migliori rimbalzisti del girone. Sarà una gara impegnativa per la SBA che dovrà cercare di avere un impatto subito positivo sull'incontro per provare a tenere testa al quintetto senese. Palla 2 alle 18 al Palaperucatti di Siena. Gli altri impegni delle formazioni a Maranto vedono nella serata di lunedì il match clou. La Tecnoilander 18 Gold ospiterà infatti al Palace Porta Estra con inizio alle 20.30 la Fides Montevarchi, formazione che affianca gli Aretini in testa alla classifica. Giovedì si è già giocato l'anticipo del campionato di promozione che ha visto l'amene di Coach Bindi conquistare il quarto successo su 5 partite disputate, battendo 88 a 75 le donne Firenze.